Sturm, Club Bruges, termina 0-1. Lo Sturm perde contro il Club Bruges o Club Bruges, che dir si voglia, Champions League Oggi, 2 ottobre 2024. Il possesso di palla è più alto per il Club Bruges, i passaggi sono più alti per il Club Bruges, la precisione di passaggio è più alta per il Club Bruges rispetto allo Sturm. Quindi anche le statistiche parlano chiaro, lo Club Bruges gioca meglio. Il gol chi lo fa? Lo fa Christos Solis, che la mette dentro nel primo tempo regolamentare. Bella partita, non c'è storia, il Club chiude bene e la partita viene a realizzarsi altrettanto bene. Il video termina qua, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate una buonanotte a voi tutti.